Sono fanciulli, in questa triste giornata di marzo in cui siamo a casa a causa di questo maledetto coronavirus facciamo una nuova lezione di storia, questa volta sulla mentalità medievale. Cosa si intende per mentalità? Si intende il modo di pensare degli uomini medievali, che come vedremo era molto differente dal nostro. Sopra di me vedete 12 riquadrini che rappresentano le 12 fasi dell'anno, perché ai tempi medievali, siccome l'orologio verrà inventato solo nel 1300, non c'era l'orologio, quindi non si aveva un'idea precisa dell'orario nel quale ci si trovava durante il corso della giornata, per cui a scandire gli eventi, a scandire il tempo, c'erano i ritmi dell'agricoltura. Infatti vedete sopra di me le varie fasi dell'agricoltura, quindi raccolto, la metitura, la ratura e tutte le altre. L'aldilà. Nel Medioevo si aveva una forte certezza nella credenza dell'aldilà. Dal punto di vista religioso quasi tutti gli uomini del Medioevo erano battezzati ad eccezione degli ebrei. Il cattolicesimo era infatti la religione principale. Vi ho messo quali sono le principali differenze tra gli ebrei cattolici, che spesso non sono così chiari. Allora gli ebrei ritengono che il Messia debba ancora arrivare, mentre per i cristiani il Messia è arrivato nella figura di Gesù Cristo. Inoltre gli ebrei non credono che Gesù sia il figlio di Dio, quindi questa è un'altra differenza con il cristianesimo. Gli ebrei credono in un unico Dio, mentre per i cristiani Dio è uno e al tempo stesso trino, perché Dio è padre, figlio e spirito santo. Questo gli ebrei non lo credono. Sia cristiani che gli ebrei credono nell'Antico Testamento. Qual era però il problema? Che gran parte della popolazione nel Medioevo era ignorante e la cultura era detenuta soprattutto dalla Chiesa, per cui tutto era filtrato dalla Chiesa. Il fatto di non conoscere le Sacre Scritture, perché gran parte della popolazione, come abbiamo detto, era analfabeta, quindi non sapeva né leggere né scrivere, faceva sì che le persone immaginassero l'aldilà, ok? E si aveva la credenza molto diffusa di una lotta tra il bene e il male. Chi rappresentava il bene? Dio, chi rappresentava il male? Satana. Satana però non va posto allo stesso livello di Dio, perché Satana, secondo la tradizione religiosa, era un angelo, il più bell'angelo, al servizio di Dio, che a un certo momento ha deciso di ribellarsi contro Dio e quindi ha raccolto degli angeli ribelli. Ovviamente è stato sconfitto da Dio ed è stato scaraventato fuori dal cielo. Sono invenzioni sostanzialmente della Chiesa l'inferno e il giugatorio. Li stiamo considerando in ambito cattolico. L'inferno che cos'è? È un luogo eterno di sofferenza in cui i peccatori vengono puniti per i peccati che hanno commesso in vita. È un luogo sostanzialmente di giustizia, ok? In cui una persona che in vita ha commesso dei determinati peccati e all'inferno viene punita. L'inferno era usato anche dai preti ovviamente per mettere paura alla popolazione. Immaginate una popolazione ignorante, analfabeta e un prete che invece dice se voi non vi comporterete bene, se non pregherete Dio, se non verrete in chiesa, se non farete le offerte, andrete a finire all'inferno. E le persone avevano un'idea di questo inferno perché nelle chiese venivano fatte delle rappresentazioni di questo inferno, con dei diavoli che mangiavano le persone, con dei mostri terribili. Abbiamo visto che a Notre Dame ci sono i gargoyle, quindi c'era un'idea diretta di questo inferno. Un'altra invenzione della chiesa è quella del purgatorio, perché se in paradiso va chi ha commesso peccati minimi e quindi è accettato vicino a Dio, all'inferno va invece chi non si salverà mai perché ha commesso peccati troppo gravi, il purgatorio è un po' la zona di mezzo e nel purgatorio si espiano i peccati, cosa vuol dire? Che si sconta una pena in attesa della salvezza, quando si sarà finita di scontare la pena si andrà in paradiso. Leggiamo dalle fonti, cioè perché noi diciamo che la chiesa cattolica crede in l'esistenza del paradiso dell'inferno del purgatorio? Perché è scritto sostanzialmente nei Vangeli. Per esempio vi ho sottolineato nel primo branetto che è quello di Matteo, pianto e stridore di denti, che sono condizioni che caratterizzano l'inferno. Ancora Matteo dice all'inferno finiranno gli operatori di iniquità, cioè chi ha commesso ingiustizie, iniquità vuol dire ingiustizia, e l'inferno lo descrive come una fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti, quindi di nuovo la stessa medesima cosa. Stridore di denti dal dolore, ok? Poi abbiamo un'altra parte sottolineata che è la genna che Marco riprende dagli ebrei, perché la genna è sostanzialmente il nome dell'inferno ebraico dove c'è un fuoco inestinguibile, quindi un fuoco che non si spegne mai, che va avanti per l'eternità. E di nuovo Marco la genna dove il fuoco non si estingue. Papa Francesco però ha dichiarato che l'inferno non è una sala di torture come si credeva nel Medioevo, ma è piuttosto la condizione delle anime lontane da Dio, lontane per sempre da Dio, perché l'inferno è eterno. In alto vedete una rappresentazione di Satana, anche detto Lucifero, che si trova nel Battistero di Firenze e cosa sta facendo Satana? Sta divorando dei dannati, quindi vedete questa rappresentazione assolutamente terribile. E sotto di lui vedete dei mostri, perché nel Medioevo si credeva anche all'esistenza di mostri. Per esempio c'è un uomo barbuto con degli artigli. L'inferno di Dante. Dante Alighieri è stato un poeta e scrittore fiorentino che ha vissuto tra il 200 e il 300 e che ha scritto un poema che avrete spero sentito nominare, che si chiama Divina Commedia, in cui lui racconta del suo viaggio nei tre regni dell'aldilà, quindi inferno, purgatore e paradiso, ed escrive l'inferno Dante in modo molto preciso come un imbuto, come vedete nell'immagine. In basso c'è un lago di ghiaccio che si chiama Cocito e al centro di questo lago è conficcato proprio Satana, Lucifero. Perché? Perché Dante racconta che quando Satana ha tentato di ribellarsi a Dio per prendere il suo potere, Dio, inferocito, lo ha scagliato al centro della terra, per cui Satana sprofondando ha dato proprio origine a quell'imbuto che vedete voi. Quindi Satana ha dato origine all'inferno e adesso è proprio al fondo dell'inferno. Ma Dante che cosa fa? Viaggia in questo inferno, conosce dei peccatori, parte dall'alto e scende piano piano verso Satana e man mano incontra dei peccatori che gli raccontano i peccati che hanno commesso e le loro storie. Più ci si avvicina a Satana, più le colpe sono gravi. Infatti Satana è colui che ha commesso la colpa più grave, perché si è ribellato proprio a Dio. Satana, come avete visto nell'immagine di prima del Battistico di Firenze, divora tre peccatori che sono Bruto, Cassio e Giuda. Bruto e Cassio sono i traditori di Giulio Cesare e sono i traditori quindi dell'impero romano e Giuda invece è il traditore di Gesù Cristo perché lo ha venduto per trenta denari. Quindi Lucifero ha tre teste, tre bocche, tre paia di occhi, delle ali, quindi rappresentato sostanzialmente come un mostro e divora i tre peccatori peggiori. I miracoli. Bisogna anche considerare che le persone medievali credevano nei miracoli, cioè nel fatto che Dio potesse, se pregato, compiere dei miracoli e quindi per esempio porre fine alle carestie, porre fine alle malattie, porre alle disgrazie di una singola persona. Come si faceva a far sì che accadessero i miracoli? Certo non accadevano così, con uno schiocco di dita. I miracoli accadevano perché il fedele si impegnava e pregava Dio. Il fedele poteva anche chiedere l'intercessione, si dice, ai santi e alla Madonna. Cosa vuol dire intercessione? Vuol dire che io fedele che ho una malattia e ne voglio guarire? Prego la Madonna affinché lei poi chieda la grazia a Dio e quindi Dio compie un miracolo. Quindi io non prego direttamente Dio ma prego i santi o la Madonna affinché facciano da tramite alla mia preghiera, affinché portino la mia preghiera a Dio. Infatti in un'immagine vedete i santi. I santi sono ancora oggi molto importanti perché se ci fate caso per esempio ai funerali si dice santo X per il defunto, santo Y intercedi per lui. Intercedi per lui vuol dire proprio questo, cioè fai da tramite tra il defunto e Dio, portalo a Dio. Un'altra questione importante è quella del pelerinaggio perché i santi si pregavano anche per tramite del pelerinaggio. Quindi un fedele partiva, faceva chilometri e chilometri a piedi e andava per esempio in un santuario dove si trovavano le reliquie del santo, cosa vuol dire? I resti del santo che spesso danno poi origine alla costruzione dei santuari o delle chiese. Quello che vedete sopra di me è il santuario, la chiesa di Santiago de Compostela, che è una città al nord-ovest della Spagna che è meta di pelerinaggio. Ogni anno ci vanno migliaia di pellegrini a piedi, in bici, a cavallo. Perché è importante? Perché Giacomo era un apostolo di Cristo, le sue ossa sono state ritrovate in quel luogo e se non sbaglio nell'ottavo nono secolo si è iniziata a costruire una piccola chiesa e le persone andavano lì in pelerinaggio perché lì c'erano le reliquie di Giacomo, quindi i resti di Giacomo. Infatti Santiago vuol dire San Giacomo, Tiago è il nome spagnolo di Giacomo e Compostela vuol dire Campo delle Stelle perché si racconta, racconta la leggenda, che un pastore una notte dell'ottocento vedendo delle stelle molto luminose in cielo decise di seguirle. Le seguì finché arrivò proprio su una piccola collinetta dove scavando trovò i resti di Giacomo e per cui da lì si iniziò a costruire la cattedrale. Quindi Santiago di Compostela in italiano lo tradurremmo come San Giacomo di Compostela. Ovviamente questo flusso di pellegrini necessitava di assistenza e dal VI secolo nacquero gli ospedali che erano gestiti da frati e da suore e negli ospedali il pellegrino poteva trovare assistenza, conforto, cibo, un pasto caldo. L'altra immagine che vedete è quella di un'altra reliquia che è quella del, sono le reliquie delle catene di San Pietro. Si narra infatti che San Pietro fu imprigionato e tenuto prigioniero proprio con quelle catene. Per cui reliquie, intercessioni, miracoli, pellegrinaggi sono tutte questioni che sorgono in questo ambito, in ambito medievale che hanno un'importanza grandissima. Un'altra questione è quella della leggenda. Che cos'è la leggenda? È, lo avete fatto senz'altro in epica, è un antico racconto che fa parte della tradizione di un popolo e che mescola fatti reali, personaggi reali e fatti meravigliosi, episodi e personaggi meravigliosi. Infatti nelle leggende noi troviamo spesso la storia per esempio di un cavaliere che vuole conquistare una dama, perché ama tantissimo questa dama, però il cavaliere prima di conquistarla deve dimostrare il suo valore e quindi combatte contro mostri, draghi, giganti, magari riceve l'aiuto di maghi, incontra elfi e quindi tutte queste storie vennero scritte, vennero raccontate. Per esempio conoscerete magari il ciclo di Re Artù, è un ciclo di storie in cui si narrano le vicende dei cavalieri di Artù e della tavola rotonda, ok? Vedete anche sopra di me un cavaliere e al suo fianco un cavaliere che combatte contro una lumaca gigante. Siamo sempre nell'immaginario, nel fantastico e quindi poteva succedere anche questo. Un'altra questione è quella del paese di Cuccagna, perché? Perché nel Medioevo si soffriva molto la fame, c'erano molte pestilenze, molte carestie e quindi le leggende sorgono anche da una necessità fisica, banalmente la necessità di mangiare e quindi sorge questa leggenda del paese di Cuccagna e si racconta che questo è un paese ricco di cibo e dove si trova cibo a ogni angolo delle strade e nel quale non facendo nulla si trova appunto del cibo e quindi l'ozio regna sovrano, quindi la gente riposa e mangia, mangia e riposa. Un'altra questione invece è quella del carnevale che nasce in questo periodo. Carnevale significa carnem, levare, il latino vuol dire levare la carne, perché? Perché il carnevale si trova poco prima della quaresima nel calendario. Quando inizia la quaresima, che poi porta alla Pasqua, la chiesa invita durante la quaresima a non cibarsi di carne, per cui cosa si inventarono le persone del Medioevo? Si inventarono il carnevale, cioè una festa che precedeva la quaresima in cui si festeggiava la grandissima, si facevano delle sfilate e soprattutto ci si abbuffava di cibo e di carne, perché dopo non si sarebbe potuto farlo. L'alchimia. Un'altra grande questione è quella dell'alchimia. L'alchimia è l'arte che nasce nel periodo proprio medievale di trasformare metalli, perché si credeva all'epoca che prendendo per esempio il piombo lo si potesse trasformare in oro e argento. Una cosa fantastica, perché se io prendo 100 kg di piombo e li trasformo in oro, poi lo rivendo e divento ricco. In realtà poi si scoprì che non era possibile. Il primo alchimista è Boulos di Mendes. Siamo nel III secolo a.C. in Egitto e l'altra questione importante è che Zosimo, che è uno storico greco nel 300 d.C., scrive di una alchimista donna, una delle poche alchimiste donne di cui abbiamo conoscenza, che si faceva chiamare Maria l'Ebrea, ebrea tenetelo a mente perché poi ci torniamo, che aveva inventato la cottura bagnomaria, che è quella che voi magari e le vostre mamme senz'altro usano ogni tanto e si usa soprattutto per fare dolci, budini per esempio. Dall'undicesimo secolo l'alchimia, che prima era diffusa soprattutto tra le popolazioni arabi ed egiziane, arriva anche in Europa, però si scopre in Europa che non funziona, per cui verrà definita fabbrica dei sogni. Nelle varie immagini vedete per esempio degli studiosi che lavorano, degli alchimisti. Sostanzialmente cercavano delle pozioni, degli intrugli per trasformare i metalli. Il tempo. Il tempo è un'altra questione molto importante da considerare per quanto riguarda la mentalità degli uomini del Medioevo, perché gli uomini del Medioevo ritenevano che esistesse solo un mondo e che non ci fosse una differenza fra terra e cielo, per cui che Dio in un certo modo si trovasse sì nei cieli, ma se i cieli fanno parte della terra, gli uomini sono vicini a Dio e gli angeli in questo senso fanno da tramite, da messaggeri, tra le preghiere degli uomini e Dio, che può concedere la grazia e quindi può compiere dei miracoli se gli uomini sono meritevoli. Bisogna distinguere però il tempo degli uomini dal tempo di Dio, perché il tempo degli uomini è finito, è breve, ha un termine, perché gli uomini, come sapete, come tutti noi purtroppo faremo, moriranno. Gli uomini sono nati e moriranno. La loro vita si compie in un periodo di tempo preciso, determinato, chiuso. Mentre il tempo di Dio è eterno e immutabile, cioè Dio ha creato il mondo secondo la visione cristiana, per cui il tempo inizia con lui, inizia con la sua creazione del mondo e andrà avanti fino all'eternità, cioè Dio ci sarà anche quando tutti gli uomini moriranno, ok? Inoltre dovete considerare che per quanto riguarda il tempo, non in questo senso un pochino più importante, ma il tempo proprio della giornata degli uomini medievali, l'orologio sarà inventato solamente nel 1300. Quindi, prima, come si teneva il conto delle ore del giorno? Primo, le meridiane. Ogni tanto, se voi alzate la testa, in alcuni palazzi magari un pochino antichi, soprattutto di campagna, potete osservare sui muri di queste case le meridiane, che sono degli orologi, e cosa succede? Che durante il giorno il sole batte su questi muri e indica l'ora. In alto, sopra di me, vedete una meridiana, e spesso le meridiane sono accompagnate da frasi che riguardano il tempo. Per esempio, su questa c'è scritta, vuoi sapere l'ora che è? Te lo dico presto, te lo dico presto. È l'ora di operare da uomo onesto, cioè è l'ora di comportarti da uomo onesto. Quindi trovate anche i proverbi. Un altro modo di misurare il tempo era quello con le clessidere, solamente che le clessidere spesso si inceppavano e poi bisognava stare a girarle continuamente, quindi non era molto comodo. Un altro modo era quello di utilizzare delle candele, per cui io metto una candela e so che quella candela dura un'ora, circa l'accendo, e poi so che è passata un'ora quando la cera si scioglie completamente. Solo che dipendeva un po' dalla lunghezza e dalla larghezza della candela. Ci si riferiva poi anche al tempo dell'agricoltura, quindi come abbiamo visto nella prima slide, al tempo della semina, del raccolto, della ratura, della metitura, cioè ognuna di queste fasi agricole era identificata con una stagione, e questo serviva agli uomini per orientarsi nel tempo. E poi, molto importante, il tempo scandito dalle funzioni liturgiche, cioè dalle messe, campane, ok? Le campane vengono introdotte dal VI secolo, dopo Cristo, e i campanili dall'VIII, quindi diciamo che dal X-XI secolo tutte le città erano perlomeno dotate di campanili che scandivano le ore. In epoca medievale, come abbiamo detto, si credeva molto nelle superstizioni e c'erano tantissime paure diverse. La vita era molto precaria, la speranza di vita era molto breve, c'erano diverse invasioni, abbiamo visto le invasioni dei Saraceni, degli Ungari, dei Normanni, quindi la popolazione viveva, questo in Italia, la popolazione viveva in condizioni molto precarie, non sicure, non si aveva la certezza di un domani. Inoltre c'erano tantissime carestie, quindi le persone vivevano un po' con non tanta sicurezza e fiducia nel futuro. Inoltre, siccome non c'erano cure mediche, se uno si ammalava rischiava seriamente di morire, e la paura più grande era senz'altro quella, oltre che quella della morte ovviamente, sempre per la questione dell'inferno, era quella della fine del mondo. Tant'è che girava, circolava una profezia poco prima dell'anno 1000, e questa profezia diceva mille non più 1000. Cosa vuol dire? Mille anni passeranno dalla nascita di Cristo e poi il mondo finirà. In realtà, poi, gli storici hanno un po' ridimensionato questa profezia, per esempio Mark Bloch, che è uno storico contemporaneo, ha detto che è vero, circolava questa profezia, però non si può generalizzarla troppo perché ogni popolazione, anche in Europa, aveva dei calendari diversi, misurava il tempo in modo diverso. E poi non bisogna esagerare questa paura dicendo che, identificando diciamo il Medioevo come un'epoca in cui c'erano i fifoni che avevano paura della fine del mondo, perché la paura in realtà era costante, ed è paura di tutte quelle cose che abbiamo detto prima. Ok. Di fianco a me vedete una città che viene sostanzialmente distrutta dai mostri, quindi la cosa importante che dovete ricordarvi è che le paure venivano anche rappresentate, non venivano solo raccontate, venivano rappresentate. Il fatto di avere un'immagine davanti per i fedeli, per la popolazione alfabeta, aveva un impatto fortissimo, ok? Perché credevano che le cose che vedevano fossero vere. L'odio per gli ebrei. Questa è una questione fondamentale perché è proprio in epoca medievale che nasce l'odio per gli ebrei. E vi ho messo in cassetto delle definizioni nuove o che magari già sapete comunque importanti. Pregiudizio cosa vuol dire? Pre-giudizio, prima del giudizio, quindi è un giudizio espresso senza avere conoscenza diretta di qualcosa o di qualcuno. Per esempio io vedo una persona e dico ma quello un ladro è un poco di buono, non mi fido di lui. Poi magari lo conosco e ci vado d'accordissimo e diventerà il mio miglior amico. Però io cosa ho fatto? Espresso un giudizio senza conoscere veramente quella persona, ok? Altra definizione è quella di antisemitismo. Cosa vuol dire? Siccome gli ebrei sono detti anche semiti, antisemitismo vuol dire odio verso gli ebrei che si diffuse nel Medioevo. Per quale ragione? Perché gli ebrei erano dai cristiani cattolici accusati di aver commesso il deicidio, provate a pensare a domicidio, assassino di un uomo, deicidio, assassino di Dio. Di chi? Di Gesù Cristo. Perché gli ebrei per i cattolici avevano ucciso Gesù Cristo. Erano considerati gli uccisori di Gesù e per questo erano considerati imparentati con il demonio. Per cui nell'Europa cattolica dell'epoca si vietò agli ebrei di iscriversi alle arti, abbiamo visto arti maggiori e arti minori, vi ricordate? E si vietò agli ebrei di acquistare le terre. Per cui gli ebrei non potevano ne possedere terre né fare fabbe, calzolari, notai, medici, eccetera, eccetera. Per cui che cosa gli rimaneva da fare? Gli rimaneva sostanzialmente due alternative. Uno, commercio. Due, usura. Cioè fare i prestiti. Perché l'usura era vietata ai cristiani. Qua si innesca una spirale, un circolo vizioso, potremmo dire. Perché siccome gli ebrei commerciano, sostanzialmente, si arricchiscono, siccome praticano quella che veniva definita l'usura, cioè il guadagno grazie all'interesse del prestito, vengono odiati ancora di più, vengono chiamati gli affamatori del popolo. Cosa vuol dire? Che loro si arricchiscono alle spalle del popolo, che invece ha sempre più fame, sempre più povero. Dopo il 1000, inoltre, sono anche accusati di profanare le ostie, cioè di non rispettare le ostie, di compiere dei sacri leggi e di commettere omicidi rituali. Per esempio, cosa vuol dire omicidio rituale? Vuol dire che, per esempio, alcuni ebrei a Trento, alla fine del 500, nella Pasqua del 1475, sono accusati di aver ucciso un bambino, San Simone, che è quello che all'epoca si chiamava solo Simone. Vengono accusati di aver ucciso un bambino. Perché cosa succede? Questo bambino, poco prima della Pasqua, sparisce, non si trova più. A Trento c'era una forte comunità ebraica. C'era la credenza che gli ebrei uccidessero i bambini per impastare il pane azimo, che è il pane che mangiano loro a Pasqua, con il sangue dei bambini. E quindi si fa due più due e si dice, bene, se loro impastano il pane azimo con il sangue dei bambini, vuol dire che hanno ucciso loro Simonino per prendere il suo sangue. Per cui vengono fatti dei processi contro la comunità ebraica e molti ebrei vengono uccisi. Questo vi dice tanto del pregiudizio dell'antisemitismo. Siamo nell'Italia del XV secolo. C'è anche il terremoto di Ancona, che invece è della fine del XIII secolo e agli ebrei viene addirittura data la colpa del terremoto e gli ebrei vengono trucidati. Sopra di me trovate un'immagine invece dei campi di sterminio, in cui vedete dei bambini ormai ridotti a uno stato scheletrico, perché ovviamente lì non veniva dato loro da mangiare, venivano sterminati nelle camere a gas, perché Hitler decise lo sterminio del popolo ebraico. E siamo nell'immagine sopra negli anni della seconda guerra mondiale, quindi dal 1939 al 1945. Questo che cosa ci dice? Ci dice che la storia si ripete in modalità ovviamente diverse e ciò che accade oggi può spesso avere radici antiche, che è importante per noi conoscere, perché riusciamo a fare un discorso più completo. Le donne. Le donne in epoca medievale vengono ritenute colpevoli del peccato originale. Cos'è il peccato originale? Adamo e Deva, come sapete, vivevano nell'Eden, quindi nel paradiso, avevano tutto ciò che volevano a loro disposizione, eppure non erano contenti, perché Dio disse loro guardate, c'è quell'albero di mele, però quelle mele non toccatele, non toccatele, perché ve lo dico io. Se lo toccate saranno guai. Il serpente che vedete appeso sull'albero sibila, sussurra a Eva, cogli la mela, cogli la mela, Eva ci casca, la dà ad Adamo, Adamo in realtà si gratta un pochino la testa, ci pensa un attimo, poi dice vabbè mi butto, la mangio. Quindi Adamo e Deva mangiano la mela e da quel momento in poi loro che erano uomini puri diventano peccatori, di conseguenza tutti gli uomini. La donna è ritenuta perciò, siccome ovviamente il racconto di Adamo e Deva fa parte della tradizione cattolica, la donna è ritenuta colpevole del peccato originale e anche inferiore all'uomo. Le donne dell'epoca avevano due alternative, wow, pazzesco. Potevano scegliere di andare o in monastero, quindi di farsi suore, oppure di sposarsi e quindi sostanzialmente di sottomettersi a un uomo. Non potevano ovviamente avere cariche pubbliche, non troveremo donne fornaie, fabbre, notari, medici, banchieri, eccetera, figurarsi. Destino diverso per le regine, ma potete immaginare quanti erano le regine dell'epoca. Ovviamente le regine facevano vita lussuosa, leggevano, facevano ricevimenti, però erano pochissime. Sembra per il solito discorso di fare un confronto tra ieri e oggi. Oggi cosa succede? Oggi le donne, secondo voi, hanno gli stessi diritti e doveri degli uomini? Purtroppo bisogna dire di no, perché se consideriamo per esempio il diritto di voto, il voto alle donne in Italia venne dato per la prima volta il 2 giugno del 46, quando gli italiani scelsero tra monarchia e repubblica e scelsero la repubblica. In Finlandia arriva quasi 40 anni prima, nel 1905. Vi ho messo un grafico che considera la differenza nelle retribuzioni. I dati sono del 2015, la retribuzione è lo stipendio e questa è una media italiana, quindi se un uomo in Italia in media guadagna quasi 30.000 euro, la donna ne guadagna meno di 27.000, quindi non c'è parità di salario, parità di stipendio, ok? Poi vedete un grafico, un Instagram in realtà, che considera le retribuzioni per inquadramento, inquadramento vuol dire mansione, lavoro che viene svolto, e trovate dirigenti, quadri, impiegati e operai, e vedete che sempre la colonina blu degli uomini è superiore a quella delle donne, quindi vuol dire che uomini e donne in Italia non hanno oggi, nel 2020, parità di salario, quindi una donna che fa l'operaio e un uomo che fa l'operaio sono retribuiti molto spesso in maniera differente. Trovate anche le retribuzioni per livello di istruzione, quindi tra uomini non laureati e donne non laureate, stessa questione per i laureati e poi il totale. Come vedete aumenta di molto il gap, cioè la differenza tra uomo laureato e donna laureata, aumenta moltissimo, c'è una differenza del 36% della retribuzione. E questo la dice lunga su quanto ancora ci sia da lavorare su questo aspetto. Il confronto trovate poi un altro grafico del Corriere della Sera, che vi espone la differenza nella retribuzione oraria tra uomini e donne. In Italia, in media, è nel settore pubblico, che è il settore statale, quindi per esempio gli insegnanti, c'è una differenza solo del 4,4%, aumenta molto nel privato ed è quasi del 18%. In altri paesi, come la Germania, la differenza è molto più alta anche nel settore pubblico. Nel Regno Unito è pazzesca, cioè nel settore pubblico gli uomini guadagnano un quarto in più di quanto guadagnano le donne, stessa cosa quasi nel settore privato. Il paese che ha il gap minore è il Belgio, ok? C'è quasi la parità nel pubblico, nel privato però questo non avviene. Vedete anche un Instagram sui ragazzi che ricevono regolarmente la paghetta, la ricevono più i maschi. Sono insoddisfatti della loro vita e vorrebbero cambiarla le donne. Ovviamente questi dati che abbiamo letto ci fanno riflettere proprio su questo. Lo stipendio a un anno dalla larga triennale, lo stipendio a cinque anni, che è sempre superiore per quanto riguarda gli uomini, quindi c'è poco da fare. Poi abbiamo parlato prima di ebrei e adesso parliamo delle leggi razziali. Cosa vuol dire? Che durante il periodo fascista nell'Italia degli anni 30 sono state fatte da Mussolini, quindi dal governo fascista italiano, nel 1938 sono state scritte le leggi razziali. E vedete sopra delle vignette che indicano che cosa non possono fare gli ebrei, quindi non possono fare il servizio militare, non possono possedere aziende, non possono essere proprietari di terreni, la stessa cosa che era successa a secoli prima. Vengono espulsi gli ebrei stranieri e soprattutto, la cosa forse più importante, è che gli ebrei vengono esclusi dalle scuole, quindi dal 1938 in poi i ragazzi e le ragazze di fede origine ebraica non potevano più frequentare le scuole italiane, vennero proprio espulsi. E poi ebbero una fine ancora peggiore quelli che purtroppo furono trasportati nei campi di concentramento, dove vennero uccisi. Tutto questo per dire la stessa cosa di prima, cioè l'odio verso le ebrei radici antiche, ma viene ripescato in forme e modi diversi anche nel corso del Novecento. Non stiamo parlando di secoli fa, stiamo parlando di 70-80 anni fa. Infine vi ho messo un grafico sull'antisemitismo. L'odio contro gli ebrei dilaga e si fa più cattivo, si concentra a Roma e dintorni. Quindi che cosa è successo? Che degli studiosi dell'Università di Roma hanno analizzato l'antisemitismo oggi, cioè oggi si può parlare di antisemitismo, esiste ancora? E come? Perché hanno considerato Twitter, che è una piattaforma che voi senz'altro conoscerete, e hanno scoperto che ci sono stati su Twitter qualche anno fa circa 20.000 tweet contro gli ebrei. Antisemitismo, poi 9 ebrei su 10 hanno detto che gli episodi... 9 ebrei su 10 scusate, ritengono che l'antisemitismo sia cresciuto in Europa negli ultimi 5 anni. 9 ebrei su 10 sostanzialmente intervistati affermano che l'antisemitismo è molto frequente su internet, quindi l'odio corre in rete. Un ebreo su 4 nell'ultimo anno ha avuto esperienza di violenza verbale, vuol dire che è stato insultato perché era ebreo, è stato insultato in che modo? Lo vedete qua a fianco? Le parole intolleranti, rabbino, usuraio, giudeo, ebreo, strozzino, ebrei e informi, sono accuse violentissime, pesantissime. Rispetto al 2017, questi dati sono, se non sbaglio, del 2019, c'è stato un aumento del 13% degli episodi di violenza nei confronti degli ebrei e più di un ebreo su tre ha pensato nel 2019, stiamo parlando dell'anno scorso, non di secoli fa, di lasciare il proprio paese proprio per questi episodi di odio, ok? E in Italia, nella nostra Italia, solo due anni fa sono stati pubblicati 49 volumi con contenuti antisemiti. Quindi, l'odio c'è ancora, correrete, ed è importante vigilare affinché le cose che sono accadute nel passato non accadano più, perché il passato ci insegna tantissimissime cose. Bene, spero che il video sia stato chiaro e un caro saluto, alla prossima!